Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! In Marese ragazzi significa... ho apprezzato molto il tuo pensiero Ma non lo condivido... Ma vada a piander il culo, ma che so, i chest di Kingdom Hearts con le pozioni dentro quei... Parlava! Verisus! Ok, applichiamo un po' di idratate, a meno che cazzo ce ne frega signori, per noi è tutta roba normale Ah! Porca puttana! No! E' uomo bianco al secondo cadavere! No, ma c'è l'ho! Eh, m'ha preso! Ah! 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 Paracorda che invece io lavoro troppo! Eccola qui! La nuova Tumblr watch party! Io non la vedo! Guarda, Gianmarco, c'è porco Dio! Prossima impossibile! Guarda, stai guardando la mia stream! La vedi? La vedi? La vedi? La vedi? La vedi? Io non la vedo! Io non la vedo! C'è, voi state così? Io no! Io nooo! No! No, no! È tutta posto! Hai fatto bene il team speak! Porca! Raga bella! Anzi, io ti chiedo scusa se ho alzato un po' la voce! Potrebbe aver dato fastidio! attacco dei gay bisogna scappare mauro dico come fa a nascere così ritardato è un peccato questa roba normale non far capito no è un uomo bianco al secondo cadavere parco di dio parco di dio parco di dio vado per poco terzo impazzivo certo supero Gianmarco non ho mai sentito così imbrunito è veramente purente infatti oggi è veramente arrabbiato come una streak di tre corpi bruciati sbagliati no ma è lei se fosse un bait lo sai guardare il cellulare è merda non te l'hai visto uomo te l'hai visto l'uomo perco di sta a destra ma si è fatto tutti dieci e vince la medaglia d'oro mi hanno devastato non si è mai visto porca puttana il mostro del gioco che si inventa sto pazzo si è il primo il fazzone perco io ragazzi ho fatto una roba mio rete lo vengo a succhiare quel mega ciolone attento sto arrivando adesso arrivo vengo a succhiandolo sto arrivando ecco vedi poi è diventato così come mi dicono che era un piccione è morto il cane è morto il cane ma com'è morto ma è morto c'è quella clip no no ma come no ma graff per i 5 vuoi sapere perché non salto guardato guardato ma ho veramente visto sta roba nel c la scoriccia porta fortuna no way usavo la stessa cosa blur eccetera eccetera ritenta sarai più bravo dai però se non sei capace a comunicare con le persone cioè non è che è colpa nostra ritenta sarai più fortunato eccetera è la stessa cosa altri micro content creator cioè a me deve sta bene tutto fortuna che non ho reagito a me la cosa è che da fastidio che buttano che buttano tutto sui soldi non sto bene perché ho visto che le visualizzazioni sono calate e non mi dite che questo è correlato guarda guarda se forse forse non ha sentito quello che abbiamo detto per un'ora e un quarto perché poi io credo in realtà la nostra reazione non andava a difendere su sta roba non lo dico spesso ma io credo che sia abbiamo fatto un ottimo lavoro onestamente almeno quello che io mi sento di aver detto l'ho detto molto bene è un miracolo ma cosa ha detto in questo video la nostra si è stata molto equilibrata e bilanciata secondo me voi ci siete anche andati troppo ti ritiri ti ritiri necessario io zanzo so che non stai scherzando prendilo prendilo che gioco è? porco dio ammazzo i strommado ma che dici? ma che cosa dici? l'ho sentita l'ho pensata l'ho voduta ho detto stronzi ragazzi cosa ha fatto Gianmarco? no cos'è successo? che fornita è un'altra che erano in giù è figo quello da fare ma è uscito quello nuovo? sbaglio ti ho voglia da mo' si niente non arrivo li facciamo su due formula 1 fatti no che è successo? l'anno scorso l'abbiamo fatto ma che ha fatto? no secondo me era l'anno scorso però era la fine di quell'altro sì sì però era l'ultimo gioco eh sì per me sì ma il programmatore fra te cioè devi lavorare devi essere devi fare dei studi ti devono te cacare il cazzo per le scadenze c'hai delle responsabilità magari se in sito va down o meno lo so però Gianmarco no Gianmarco no aiuto non ce la faccio ah ah qualcosì io mi vieni da piacere ah ah lì 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 ah 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 ah